Io credo che oggi si sia persa un'occasione per fare un passo importante nell'interesse dei turisti, della montagna e della sicurezza delle persone che la frequentano. C'era la possibilità di intervenire e di mettere in campo un sistema di deterrenza da un lato e di formazione e informazione delle persone che frequentano la montagna dall'altro e invece si è voluto a un certo punto accelerare perché il fatto che sia stata fatta una sospensione era perché c'erano molte persone che riconsideravano la possibilità di rivedere il provvedimento, di ampliarlo e dargli un senso molto più impregnante e molto più importante per i territori della montagna. Avevamo parlato di formazione, è stato condiviso anche al tavolo durante la sospensione la problematica della formazione che doveva essere una parte grossa ed integrante di questo provvedimento ed è stato liquidato con un ordine del giorno scritto in 448, in tre righe dicendo addirittura che la finalità principale del progetto di legge è il tipo educativo per promuovere un turismo responsabile quando in realtà, diciamocelo, ma l'abbiamo anche condiviso la finalità principale era mettere un freno alle chiamate improprie che mettono a repentaglio soccorritori, fanno spendere soldi e mettono a repentaglio magari dei turisti che si trovavano veramente in condizioni di emergenza. Non si è voluto mettere un limite o un numero chiaro con partecipazione, noi l'avevamo presentato come emendamento e questo può portare all'effetto di allontanare i turisti dalla montagna perché si parla, so quando vado in montagna, vado e rischio se ho qualche problema di pagare una sanzione spropositata, elevata, non so neanche quant'è perché sarà entro il 50% del costo del soccorso e quindi rischio di allontanare le persone dalla montagna, io penso che chi vive nel territorio di montagna tutto vuole tranne che allontanare turisti e persone, anzi, diciamo che visto la difficoltà che vivono le valli oggi sarebbe auspicabile il contrario. mette a rischio le persone che invece decidono di frequentarla lo stesso perché quando io metto un deterrente che è chiaro e trasparente una persona può anche prendersi la responsabilità di dire faccio una telefonata in più e eventualmente valuteranno. Se io so che rischio di pagare magari 3, 4, 5 mila euro, come diceva correttamente anche il Presidente Ambrosoli, corro anche a rischio di dire no, non chiamo nessuno, mi arrangio me lo arrischio con poi tutti dei rischi per la salute e poi se il fatto vuole che mi vada male devono comunque uscire con un elicottero e venire a recuperarmi e quindi diciamo che ci sono comunque due aspetti negativi e poi non da meno c'è la questione relativa al DPR del 92 che è stato inserito questa mattina che fondamentalmente, l'abbiamo detto anche prima, rende nullo questo provvedimento senza una sua revisione complessiva perché sostanzialmente dice che tutte le chiamate che prevedono poi un accertamento in pronto soccorso ovvero anche un banalissimo mal di pancia in montagna sono completamente gratuite, lo dice questo DPR e quindi fondamentalmente smonta tutto il castello delle chiamate sanitarie e non sanitarie perché chiunque chiamerà e avrà una necessità che sarà nel campo della sanità andrà in pronto soccorso sarà sottoposto un accertamento, codice bianco, verde, giallo, rosso poco importa ma sostanzialmente non sarà tenuto a pagare quel deterrente che noi vorremmo mettere. Quindi fondamentalmente partivamo da delle finalità dei principi che erano ampiamente condivisi, abbiamo chiesto di allargare il tavolo e di mettere tutte le intenzioni e tutte le volontà sul tavolo per cercare di fare il miglior servizio ai cittadini e alla montagna e invece purtroppo ci troviamo con un provvedimento fatto, cambiato di fretta, con dei tira e molla anche da parte dell'associazionismo, non nascondiamoli, ho anche attaccato duramente le associazioni per le giravolte che hanno fatto durante questo percorso, però nonostante l'impegno di alcuni si è arrivati a un prodotto che fondamentalmente non risponde alle finalità che ci eravamo date all'inizio, quindi non posso che non esprimere un voto contrario a questo provvedimento. Grazie.